In piena peste Boccaccio scrive poesie d'amore e nelle novelle del Decamerone è quasi sempre l'amore, anche quello più sensuale, a far passare in secondo piano la paura della morte e a far sperare ancora nella vita. Così in piena pandemia prendo spunto citando la sua espressione soavi ardori per scriver d'amore in un tempo in cui i matrimoni già fissati vanno a farsi benedire o, si spera, nel migliore dei casi, rimandati a giorni migliori. Ed è l'amore, ed è l'amore che l'alme congiunge i cuori, un cuore e un'anima sola, una sola carne allora senton d'essere i due amanti. E seppur distanti, seppur lontani, pur sempre provan quei soavi ardori che di dolcezza impirono i loro cuori, lo dì che gli occhi loro si incrociarono e si amarono. La vita poi a volte divide, il tempo tutto vuol cancellare, ma l'amore è più forte e d'amore si può sol amare. Così nei petti di chi pur solo un attimo s'amò, mai si spenge quell'amore che nei loro occhi brillò.